Qual è il cancro al colen metastatico? Il cancro del colen è la proliferazione anormale o la crescita delle cellule tumorali nell'intestino crasso, noto anche come il colen. Un tumore nel colen di solito inizia nel rivestimento dell'intestino crasso. Quando il cancro del colen si diffonde ai tessuti adiacenti e invade altri organi nel corpo, è chiamato un cancro del colen metastatico. Il carcinoma del colen metastatico è anche un cancro del colen in stadio IV. Un cancro del colen metastatico si verifica in genere quando le cellule tumorali si staccano dal loro sito originale nei colen. Le cellule tumorali attraversano quindi l'infonodio o il flusso sanguigno e raggiungono altre parti del corpo dove spesso formano nuove crescite cancerose. Quando la metastasi o la diffusione colpisce gli organi vitali come il fegato o i polmoni, le possibilità di una cura completa sono generalmente scarse. Alcuni sintomi del cancro del colen sono la perdita di peso inspiegabile, il dolore addominale e il passaggio delle feci simili a delle matite, che a volte sono macchiate di sangue. La maggior parte dei sintomi del cancro del colen metastatico spesso dipende dalla parte del corpo a cui si diffonde il cancro. Questi siti possono includere fegato, osse e polmoni. Oltre ai sintomi del cancro del colen, il cancro del colen metastatico nel fegato causa anche il tero o ingiallimento della pelle e degli occhi. Anche le dema o gonfiore dei piedi e la scite, che è l'accumulo di liquido nell'addome, sono spesso presenti. Il cancro che si diffonde ai polmoni si manifesta frequentemente con difficoltà respiratoria e dolore al petto. I dolori ossei e la debolezza sono spesso i segni del coinvolgimento osseo. Il cancro del colen metastatico può essere diagnosticato con l'uso di esami del sangue e altri esami diagnostici. Un test di funzionalità epatica viene solitamente eseguito per valutare lo stato del fegato. Anche una scansione addominale per tomografia compoterizzata, TC, e gli ultrasuoni sono spesso utili per valutare l'area per la possibile diffusione del tumore del colen. Una varietà di opzioni di trattamento sono di solito disponibili per il paziente. Il carcinoma del colen metastatico che si diffonde nel fegato può essere trattato rimuovendo la parte interessata attraverso la chirurgia, l'ablazione o la combustione del tumore e mediante la crioterapia, che viene eseguita congelando il tumore. Si può anche usare la chemioterapia con radiazioni. La gestione del carcinoma del colen metastatico è di solito eseguita da un team di medici professionisti. Questi includono i gastroenterologi, i medici specializzati in malattie del tratto gastrointestinale, i chirurghi e gli oncologi, i medici che curano i malati di cancro. Quando il cancro ha raggiunto i polmoni, viene anche spesso chiamato un pneumologo o un medico con specializzazione nelle vie respiratorie.